Più che un masterplan sembra un calvario il progetto di riqualificazione dell'area di via Fonte Preturo all'Aquila a lungo via 20 Settembre. Una guerrita parte di condomini di uno degli edifici lo ritengono infatti una mezza fregatura perché dovranno cedere il loro terreno e diventare soggetti attuatori della realizzazione di una nuova piazza pubblica. Al loro rischio e pericolo però in termini di responsabilità penali e anche di spese non coperte dal contributo di ricostruzione se qualcosa dovesse andare storto. Ed è per questo che uno dei condomini, il signor Riccardo De Santis, oggi manifestato con un cartello al collo per le vie del centro storico. I condomini vogliono solo che il loro palazzo venga abbattuto e ricostruito come tutti gli altri e alla nuova piazza sostengono ci deve pensare il comune, un accordo diretto con la ditta, visto che, osservano, sarà la ditta la maggiore beneficiaria del masterplan poiché entrerà in possesso di negozi, parcheggi sotterrani e anche di alcuni appartamenti rimasti vuoti. Ma il comune va avanti per la sua strada e minaccia il commissariamento dell'Assemblea dei Condomini di via Fonte Preturo e l'esproprio del terreno per realizzare la piazza. La piazza è una cosa che deve finanziare il comune, non può pretendere il comune che noi diventiamo improvvisamente attuatori di una piazza pubblica rischiando di tasca nostra o mettendo dei soldi di tasca nostra.